Ciao a tutti ragazzi, beh, è inutile dire da tanto che non faccio un video, comunque. Allora, volevo darvi le date ufficiali del G-Pride di Palermo, Roma e Milano. Quella di Torino ancora non la so, sinceramente, comunque. Allora, il primo di tutti in assoluto sarà a Roma il 15 giugno. Quindi tra pochissimi giorni. Poi ci sarà quello di Palermo il 22 giugno. E l'ultimo penso sia quello di Milano che è il 29 giugno. Per quanto riguarda Torino comunque non lo so. Comunque, cosa so di preciso? Niente. So soltanto le date, però io ci andrò come sempre ogni anno. Quest'anno, come madrina a Palermo, so che ci dovrebbe essere Maria Grazia Puginotta. Però, non so. Comunque, io spero di fare un video, poi alla fine, bello montato con le fotografie che scorrono, sono i momenti più belli, come sempre. Però la vedo molto, molto difficile perché ho un problema con Movie Maker. Quindi devo trovare un programma gratuito, che mi sembra difficile, che faccia comunque questi effetti di presentazione con la musica, le foto che scorrono. Quindi, sono alle ricerche del programma. Comunque, di qual 22 io sarò in quello di Palermo, perché è la mia città. Comunque, non voglio allontanarmi. Sinceramente, Palermo è la città in cui sono nato. Sono orgoglioso di vivere nella mia città, con tutto che ho avuto dei problemi negli inizi, però adesso, sembra, non ho più qualche... Comunque, la gente poi ti conosce. Vede che sei una persona buona e non ti rompe più le palle. Comunque, niente, spero di fare del mio meglio, anche i prani. Delle foto saranno tantissime, ve lo dico perché vogliamo fotografare. Purtroppo non ho una macchina fotografica, ma un telefono, che fa delle foto veramente belle. Quindi, lo sarò in cellulare e farò sempre tante foto. Quindi, aspettatevi questo video dopo il 22. Comunque, ragazzi, gentilmente se potete aiutatemi e scrivendo qua sotto magari qualche programma buono, gratuito, per fare una presentazione, diciamo, in video, con delle foto che scolgono con la musica. Escluso MovieMedia perché ho avuto dei problemi e quindi non sono riusciti a sistemarli. Comunque, niente, del resto vi saluto. Spero qualche vostra risposta e spero di esservi stato utile. E spero di poter fare questo benedetto video. E niente, comunque, un bacione a tutti. Ciao, ciao. Momo. Ciao. Ciao. Ciao.